Muti, tutti muti, eh ma Neapolis tu fai fake news, tu dici le stronzate per fare i click, zitti, muti, accuccia, perché quando parlo io, non per vantarmi, qualcosa c'è sotto, io non mi porto le fake news, lo sapete, lo sapete, che io le cavolate su questo canale non le ho mai portate e mai le porterò, ma quando ci sono gli agenti che parlano, qualcosa c'è sotto, io ve lo dissi, se inizia a parlare l'agente di Lobotka, qualcosa c'è, qualcosa c'è, perché se no, questa notizia di Lobotka e il Barcellona, oggi, non sarebbe uscita. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1936, per prima cosa iscriviti al canale E' Gratis. Signori, cosa vi disse io due giorni fa? Guardate che il Barcellona è interessato a Lobotka, stiamo attenti. No, ma lui ha detto il procuratore. Il Barcellona sonda attivamente la disponibilità di Stanislav Lobotka, rivelano fonti interne al Barcellona. Il contratto del talentuoso centrocampista con il Napoli scade nel lontano 2027, ma Deco potrebbe ci agire con decisione nel mercato e sti, boh. Cosa vi ho detto io, Aiu? Cosa vi ho detto? Quando io vi dico le cose è perché c'è qualcosa sotto di sicuro, perché ve lo ripeto, se no i procuratori stanno zitti, se no i procuratori si fanno i fatti loro. Ma siccome siamo in un calcio dove il procuratore conta più della squadra, conta più del presidente, contano più i procuratori che i tifosi stessi delle squadre, il problema sta qui. Sta a monte il problema. Se parla la gente di Lobotka è perché c'hanno qualcosa sotto il banco. E io di sicuro, sarò sicuro che semmai un giorno nel prossimo mercato estivo Lobotka dovesse lasciare questa maglia qui dietro per andare a vestire quella blaugrana del Barcellona, ma di sicuro il presidente dirà io gli ho offerto tot soldi, io gli ho offerto il rinnovo di contratto, non ama Napoli, preferisce Barcellona. Ragazzi, di cosa vogliamo parlare? Ma cosa vogliamo dire? Cosa vogliamo dire? Io l'ho detto, c'è qualcosa sotto a questa squadra che non torna, perché tutti vogliono andare via. Tutti, nessuno escluso, tutti vogliono andare via da sotto la gestione di questo Aurelio dell'Aurentis. E io l'ho detto, è un dittatore, il dittatore Aurelio dell'Aurentis. Io l'ho detto, non so quando fece uscire questo video, forse un mese fa, due mesi fa, non mi ricordo, non mi ricordo, però è impossibile da concepire questa cosa. Io veramente non riesco a capire come sia possibile che tutti i giocatori, tutti i giocatori, tutti i procuratori parlano in questo modo. Addirittura Piotr Zelischi dalla Nazionale Polacca, senti eh, sto giocando poco, ma mi sento bene fisicamente, voglio guidare la Polonia e gli europei, non vedo l'ora di venire in Nazionale. Nazionale, spero di finire al meglio questa stagione. Quando uno ti dice, non vedo l'ora di venire in Nazionale, è perché gioca, è perché gioca. Io l'ho detto alla mia su Zerischi, sei tesserato Napoli, rimani fino alla fine? Sì? E allora da qui alla fine del campionato devi sputare sangue per questa maglia. Non lo sputi e vai in tribuna. Che senso aveva escluderlo dalle coppie? Allora, lo vuoi escludere dalle coppie? Mettitemi dentro. Toglielo anche dalla Serie A. Se tanto non lo dobbiamo far giocare a Zerischi, se dobbiamo farlo giocare 10 minuti, visto che Traore tanto non ha il 90 minuti, forse ce ne avrà ora, a nove giornate dalla fine questi 90 minuti. Sperando, perché c'è stata la sosta delle Nazionali, il ragazzo non è andato con la Nazionale, è preferito rimanere a Napoli per le condizioni fisiche che non sono ottimali, e quindi staremo a vedere. Però ragazzi, a me sembra paradossale. Sembra veramente paradossale. Cioè, è impossibile che il procuratore di Robotka parla l'altro ieri del Barcellona e oggi esce la notizia interna al Barcellona che Deco vorrebbe già sondare, vorrebbe sondare Robotka per il mercato estivo. Allora, io le cose sono due. O tu, Aurelio De Laurentiis, ti metti in testa di dire Oiu, sarà una rivoluzione totale. Vendo tutti i giocatori che abbiamo di spicco, Robotka, Cavara, Osimè, Cavara non lo venderà mai, lo venderà fra due anni, Cavara è già scritto che fra due anni lo vende. Però tu ti rimetti, 30 milioni in tasca di Robotka, io penso, Robotka 30 milioni li valga, penso io, non lo so. Io penso, 30 milioni li valga, Robotka. E poi c'hai i soldi, 130 milioni di Osimè, addirittura si va alla va, ma nessuno pagherà i 130 milioni, lui andrà via ugualmente, anche se non pagano la clausola. Sì, tu c'hai la clausola sotto, non mi paghi 130 milioni, e vuoi che io, e vuoi che io, ti regali Osimè? No, amico mio, non funziona così. Mi è piaciuto tantissimo il commento di un ragazzo sotto, qui su YouTube, che dice, spero che l'affaro Osimè gli rimanga in gola, gli rimanga sullo stomaco e sul portafoglio, perché non è possibile che tu dai 10 milioni a stagione a questo giocatore e a quegli altri gliene dai la metà della metà. Cioè, è assurdo, è assurdo, veramente. È veramente assurdo quello che sta succedendo, una gestione posto scudetto atroce. A me mi sembra di rivedere l'Inter del dopo triplete, per farvi capire, che c'è stato quanti anni? Cinque anni? Sei anni senza andare in Champions League? Non mi ricordo quanti anni l'Inter fesce senza andare in Champions League. Però poi da lì hanno rifondato. Ma i debiti, c'hanno i debiti, si proprio apranno i debiti, ma noi pensiamo a noi, c'hanno un giorno a fudo. Loro c'hanno i debiti, noi abbiamo dei laurenti, ragazzi, quindi non è che questa situazione sia tanto migliore, diciamoci la verità, non è che sia tanto migliore. L'unica cosa che io non riesco a concepire è se tutti questi vogliono andare via da Napoli, perché non l'hanno fatto l'anno scorso, che avevano vinto lo scudetto e valevano forse qualcosina di più, potevano pretendere anche qualcosina di più dalla società che li stavano acquistando. Io questo che non riesco a concepire, perché se ne escono tutti ora che vogliono andare via da Napoli, forse hanno capito che il Napoli vuole fare la rivoluzione, a questo punto io questo penso, che il Napoli voglia rivoluzionare il centrocampo, la difesa, l'attacco, perché se no ragazzi non ha senso. Queste continue voci di mercato che escono ogni giorno e sono sempre più insistenti, voglio... Cioè, se il procuratore di Lobotka dice io Lobotka mi ha mandato gli screen dove Xavi parla benissimo di lui. Ragazzi, qualcosa, allora, quando io vi dico, i giocatori li guardano i social, vedono le conferenze, vedono se si parla di loro. Loro sono sempre lì su questi social. Quindi stiamo attenti, stiamo attenti pure a quelli che scrivete sui social, sino a Laut, sino a Mappina, siamo attenti. Comunque, detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. E ribadisco tutti quelli che mi hanno dato del tu fai clickbait, fai terrorismo mediatico, giornalistico. Oggi è arrivata la conferma che il Barcellona sia molto molto interessato a Lobotka. Quindi, chi dà ne ha ragione? Io, oppure voi che mi avete attaccato inutilmente. Detto questo, iscrivili al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao a io!